ma buongiorno 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 buongiorgio oggi siamo qui nella nuovissima mappa ma season 5 capitolo 2 già 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 e non ci ho pensato a fare sedia perché sono pirla e va bello faccio oggi della reazione perché comunque non ho visto tanto bene il pass e non si chiamano ancora visto proprio in generale vediamo vediamo abbiamo al primo il mandaloriano il mandaloriano bello bello io ho 8 anch'io poi abbiamo la musica lo slendardo i bbux allora il cosa il dettaplano aspetta aspetta poi la schermata di caricamento e la cosa qui di baby yoda allora devo dire che non so che se si può cavalcare oppure si può cavalcare credo però comunque mi piace a me ah no perché c'è le stanghette no comunque allora non è che proprio il sembra un pochino il millennium falcon come che ci hanno dato quell'evento si comunque non è che proprio è bellissimo non mi piacciono però sette e mezzo sette e mezzo ok dai pure a me pure a me sette e mezzo poi passiamo nell'altra pagina gravi soluzione poi abbiamo aspetta ok abbiamo una una bellissima warp che non è che mi piace tanto perché l'ho mai usata però c'è l'ho usata per alcuni però non è che mi piace sei ok io gli do così sei e mezzo dai poi abbiamo la schermata di caricamento fatto da un'artista bella bello un po' sì sì il lo zainetto devo dire una cosa però lo zainetto a me piace eh sì anche a me piace ma ti ricordi il jetpack di iron man e a me sembra eh sì poi vabbè è risato signor gis la scia e ricky come si chiama race eh no non la chiamiamo race ok perfetto è molto bello vabbè boombox boombox devo dire che non è proprio il massimo del balletto però comunque non è male ma non è male ma che voto gli da alla skin eh alla skin alla skin io 5 a me non mi piace 5 vabbè 6 e mezzo pure quella e poi boombox troppo bello mi dispiace 9 allora no io gli do 6 piccone aspetta ribelle vabbè e il piccone devo dire che non è male ma posso dire una cosa ma è quel piccone è tipo quel piccone che poi metti secondo te poi mette secondo stile eh no non credo però vbax ok il dettaglano è bellissimo a me piace il dettaglano è per far tipo qualcosa di futuristico si a me piace di femminile già uno scanzardo e ricky cavalieri risi risi non è che cambiamo che cambia tanto di odio 6 meno anche poi questa bellissima warpa si è troppo bella fosse frittella beh anche se è bella comunque otto e mezzo nessun testimone nel senso che lui è proprio quello lì dire fine oddio guarda che figo no invece è molto bello devo dire perché è un fucile con una lama e inficchiato un panino aspetta che voglio sentire come senti il sangue si comunque sei carino sì sì dai diamogli un occhio no io ho sette e mezzo dai non ho messo eeeh v-bucks tuffo al burro sinceramente questa mi piace vabbè questa non è che e non dimenticare il caffè vabbè adesso indirizzo ma ma mia la cosa a questa allora giusto che io non le uso quasi mai le scie comunque non so se se l'hai letta ma c'è scritto 7 il bandito della connalazione però comunque si bella main cake allora bellissima lo è skin madonna poi il suo balletto lo andremo a vedere dopo quello mi piace un sacco no purtroppo no quello però allora main cake si mi piace mi piace però lo segueremo no no andiamo avanti andiamo avanti allora frittella volante frittella volante frittella volante 7 mezzo 7 mezzo si si ti conosce il dardo vabbè questo bellissimo oddio troppo l'ho ho detto troppo lesto troppo lesto aaaaaaaaaah ti fanno doccia doccia molto oscarra molto bello io dico 7 più no io ho 10 10 mezzo si esce no 8 va 8 io gli do 8 8 dai 8 taglia colazione taglia colazione bellissimo vai in una banca fai finta di rubare e c'è dietro i banchi che viene la polizia guarda quella schermata di caricamento oddio tu ci dà secondo me un pochetto di informazioni mamma mia bello e poi il dolce senza nome questo è la cosa più bella di sempre ma è bellissimo bellissimo ti immagini in questa ora te lo ritrovi fuori casa si 16 marzo vai zanna bestia piccone zanna bestia a me gli devo dire che preferisco il piccone quello più grosso però sto vedendo credo un detaplano a livello 44 si oddio lo vedo anche io guardati bestia dopo lo vediamo vabbè dopo unità sì carino carino questo mi piace vedi i modelli basta che fai quadrato e poi fai L si devo dire che o sul pump o sullo scar ci sta veramente bene sì devo dire che cosa mi piace 100 100 vbats 100 vbats e poi mave 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 c'è fatta bene come skin è una guerriera che rappresenta qualunque persona di quelli che mettono tipo assassino allora lo sai a me sembra quella di assassin creed però leggermente il mio voto è 5 a meno a me fa schifo lei fa schifo io 7 più devo dire che non è il massimo allora questo brocchiero quarafo corfo feroce mi piace allora è bello perché in alcune skin ci sta veramente bene 7 e mezzo sì 7 e mezzo vabbè standard le ali le ali le ali nooo dimmi che si può mettere mettere in tutto mamma mia in tutte le skin questa 9 e più no aspetta non mi di che non si può molto in tutte le skin sono bellissime le ali ma sono ultra belle belle bello bello oddio artiglio dell'arpa dell'arpia bellissimo dell'arpa 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 ho sbagliato vabbè comunque è bella è bellissima e poi c'è medusa 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 però dopo fidati che c'è una guarda guarda livello 51 che è 51 oddio sembra una banana aspetta non l'ho vista ma devi vedere devi vedere devi vedere solo l'immagine che c'è oddio ma è uno squalo sembra uno squalo vabbè l'abbè ma è sempre una questa sembra sempre di più quella di di cosa eh di di assassin cread col coso che gli spunta bello io gli do una cosa non voglio darmi 7 8 8 sì sì 8 8 con questo stile mi piace non so perché lancia pure la lancia beh lancia non diciamo i nomi perché sennò diventiamo matti sì bello fammi sentire il song kakadun sembra che dice bro è bellissimo il song sentilo e no guarda no non ce l'ho te lo giuro davvero no io non ce l'ho vabbè schermata di caricamento bella è riflessa bella ho capito no se è quello che penso io me ne vado eh se tu quando nuoti con questa skin ti diventa così io me ne vado no no non diventa così mail coda reattiva ma cosa sta roba cos'è bellissima poi 100 vbucks devo dire che però è bello buoni 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 bello spezza scudi si anche questo è bello lo sai una cosa si mettevano tipo gli artigli che gli spuntano era ancora più bella però sono troppo belle l'acule che c'è nelle spalle bellissima io gli do un 7 più ok no io io questo stile 8 meno la scia la scia la scia che tutto no è bellissima bellissima 10 allora io ti giuro che sto tutta questa pagina io gli do 10 anche l'alessi di abbi ma cos'è cos'è questa bellissima schermata di caricamento no basta che guarda no io mi sono già innamorata di il suo dettaglano che bello sì è vero dopo l'icona niente importante 100 vbac vr4 1th nomi incomprensibili beh 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 questo condor oddio quanto è bello oddio quanto è bello bellissimo 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 mi piace poi spieghiamoci che poi non c'è prima più tempo e vediamo sei netto devo dire che è pure questo bello si è bellissimo poi assassino sconosciuto beh beh c'è da rispettarlo giuramento e tormento oh questa mi piace allora ai samurai questo ci sta benissimo si si è bellissimo sì no un bravo indicativo è bellissimo oh vero è bello bello oh si è il balletto famigliere, decidete cosa indietro il bellezzo, mamma mia oddio, bello, bello, bello dai che io non ce n'ho ok, vai, corre non mi frega cibi no, è come non ci pronuncia? kibi dopo hyperboard hyperboard vabbè, come si dice, cavolo noi lo chiameremo blambunzo blambunzo oh dio è bella questa, o no o no, è bellissima per farli ho acquisito pure questa ci sta bene, è Lexa poi è anche vediamo skin Lexa ok allora, a me solo un dettaglio ti voglio dire non mi piacciono le skin i personaggi delle anime no beh, fate ad anime oddio picconi interativi, credo che ti spugano belli belli? schermata di caricamento bella, devo dire non quelle che ho visto non quelle che ho visto interfaccia e lo zainetto devo dire che ci sa bene con molte cose sì, ci vorrei pensare anche con la storia il balletto il balletto mamma mia eh questo è bello pensa che se tu vai con la modalità replay e la metti ancora più rallentato pensa che è figata sì poi meineis domina questo meineis domina non c'è da parlare scudo del possente quello questo è veramente ci sta molto bene con i cavalieri vabbè cento ii bacca come sempre meineis questo stile non mi piace credo che ci sia altro sembra una specie di Ronaldo andato al Colosseo no guarda a me sembra Ronaldo ecco vedi cioè Ronaldo però che tipo è andato in un una festa è dovuta fare la d'ora vabbè dopo vabbè 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 ii conoscen d'ardo vabbè è benissimo oh questo oh molto bello tante cose molto bello all'ora della vittoria bellissima bello 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 sì guarda che c'è i piccoli è bellissimo no devo vedere un attimo anch'io senti il gioco e si va buo vabbè prossima pagina fidante leone leone vrap vrap è bellissima la vrap è bellissima bello mele dopo casco leggero casco leggero sì minaccioso minaccioso mele casco leggero pennacchio no non è pennacchio perché fuoco però bellissimo dopo 100 v-back mele imbattuto molto bello questo mi sembra la skin di prima mi sembra la skin di prima quella che c'è sul petto quella medusa dopo gratis preparazione del guerriero bellissima come skin guadagnatavia ultima skin mele casco pesante ma proprio pesante ma cos'è questo se vai in africa muore sto guarda 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 ah ma c'è un'altra schermata dove ah dietro sì no baby yoda lo sto vedendo veramente andiamo mando vabbè mando normale e il mando baby oh dio ciao no ciao è bellissima baby yoda eh se ne è andato Riccardo mi dispiace raga per iodo è troppo bello e per ultima cosa no non è per ultima perché ce l'ha altri giù no aspetta per ultima cosa del pass il mandarino abbigliamento bellissimo bellissimo bello 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 mando no perché non ci dà la schermata bloccata la freccia bloccata proviamo andavanti uuuuuh icona stendardo bella che sfida c'è lì? ranger galattico che sfida c'è lì? eeeh completa in carichi epici dopo ranger galattico è bella 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 che sfida c'è? in novecchia scuola in novecchia scuola e c'è sempre i carichi epici a tutti a loro e poi menace eroi solitario in novecchia scuola mamma mia è bellissimo man cake oh no non mi piace oh no non mi piace oh no non mi piace è bellissima bello bella puretti patate oh puretti patate bello burro non viene incluso mamma mia dopo vedo un menace bellissimo leccia infiltratrice bella che non è cambiato quasi niente no oh bella icona sedardo di leccia leccia blitz bellico bellico bello bellico 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 oddio no credo che la prima schermata di caricamento è più realistica ma sembra ma è letteralmente mita però da è mita è mita femmina è vero e dopo bene oddio è imbattuto fiamma benissimo oddio bello vabbè dopo ancora non ci fa vedere è bene vabbè raga siccome io volevo fare anche una partita però non posso perché il video veramente sennò viene lunghissimo vabbè ragazzi detto questo un saluto come da Yoshi e Riccardo saluta ciao 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 ciao